Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni in uscita provenendo dal Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per lavori tra Fabro e Valdichiana. Sempre verso Bologna un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 293 tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Ancora in direzione nord rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Vali con Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!